Però gli imparati come il pancadino 67 Bellissimo, bravo Bravo, bravo E' nel posto in cui non dovrebbe essere Spostarlo in un altro posto Perché tutto questo è concoluto? Per dare l'idea dal punto di vista a questi colori Perché l'area è così vasta E così con un c'è anche E' un c'è anche 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 un c'è Dobbiamo, io però l'ascolto all'inizio Non bloccarmi in Italia Ma possibilmente avviate a cosa Rilevanza storica e culturale Quindi c'è tanto, c'è tanto da poter evadometrare Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.